buonasera buonasera eccoci qua cosa abbiamo qui che cosa c'è fantastico allora dai chi viene fuori ma è paolina vieni no vieni qua vieni 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 non vuoi venire qui si vieni sì lì devi andare perché c'è quello la eccola allora applauso applauso e vado un po più applauso applauso grazie allora buonasera paolina mi chiamo paolina mia oggi oggi la mia relazione relazione è che cosa si vuole che farete chi era già lì è un bicchiere ok ok bene sta sciogliendo mezza fettina di alance sì sì il secco il proseguo sì il proseguo sì ben freddo ben freddo sì e se si acqua frizzata acqua 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 frizzata sì l'appello e farlo vedere bene mostra l'apero abbiamo anche l'apero no che bello va bene va bene va bene grazie grazie applauso adesso tu riprendi me prendi riprendi per girare di qua qua si vede non mettere il dito davanti siedi 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 quindi prima cosa che facciamo apriamo apriamo il prosecco ecco qua qua allora questo si fa così poi l'abbiamo eccolo qua dunque ti si muove dica dove si muove il bicchiere c'è no? tre cubetti di ghiaccio ecco lì ecco lì vuoi cosa devo fare? cosa devo fare? metta penna mezza fettina di arancia devo usare la mano vabbè uso la mano poi cosa metto? il prosecco il prosecco oh questo ecco lì ecco lì ecco lì è troppo troppo qualcosa l'alco affizzante asci vediamo tutto un po' un po' affizzante ok ecco lì e ultimo l'apero con movimento circolare l'apero ecco lo spritz eccolo qua bene bene adesso è pronto andiamo a bere devi ecco lì Grazie a tutti